È stata una nada che ci dimenticheremo forse in fretta, ma per farcela dimenticare come si deve serve che quest'uomo torni in campo, serve che quest'uomo torni a dimostrarci il suo valore continui a farci sognare e che sia l'anno della riscossa per il numero 33, Mario! Take me, take me, take me E questa è la mia managna, è bellissima, è bellissima. Allora, vedo molte ragazze, vorrei dire, ma se la leva si vede meglio, vero? No, non si può. Va bene, allora Mario, è stato bello vedere che hai passato una bella estate, ne ho visto sui social, sei stato in bicicletta, hai scritto sui social, ti sei anche allenato, ti sei mica dimenticato come si segna, vero? Sì, la canza sono sempre in fuori. Sì, ma anche quando... Allora, il discorso è questo, è stata un'annata difficile, noi sappiamo che tu hai tanta voglia di tornare in campo e di mostrare quello che sappiamo che vale. Che annata sarà? Sì, io ho la voglia di fare una canostrazione, però dobbiamo lavorare adesso e penso che lo facciamo. Bene, allora Mario, in questo momento è emozionante, questo è bello, è bello perché vuol dire che sta sentendo il momento... Sì, io ho la voglia di fare una canostrazione,